sbustiamo all'interno troviamo adoro farlo tantissimi accessori le nostre sleeve dorate e otto vacchetti manafi reverse amicia gar and clefable ma che cos'è farfetch e ma questo è un complotto questo è un complotto staraptor reverse dai 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 gar c'è un polo un miglioramento ma che significa no se pass reverse e che cos'è grim snarl mincino river ma tutte reverse tipo normale ma perché no ma no 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 riolu reverse ma non ci posso credere ma è tutto vuoto a qualcosa vaporion stupendo va bene e poi no vabbè incredibile un etb per un vaporio della trainer gallery ma stiamo scherziamo ma dove siamo finiti e